Non ti posso non chiedere un parere su Kim Min-Jae, che è il difensore del Ferrema che il Napoli sta acquistando, tu lo hai affrontato d'avversario. Questa stagione che difensore è? Non ti chiedo magari un paragone con Koulibaly perché Koulibaly è una leggenda, lo possiamo definire così, però che giocatori possono aspettarsi? I calciatori del Napoli, chiaramente come un compagno, e i tifosi che lo aspettano? Allora, ho anche parlato con tante persone a Napoli, anche con lui stesso, secondo me... Con Kim? Si può, no? Ah certo! Ti ha chiesto com'è Napoli? No, tanti mi chiedono com'è Napoli, perché ho vissuto quattro anni in pieno. Lui è un giocatore, un team player, sicuro, silenzioso, dà il massimo per la squadra. Il Napoli avrà un giocatore forte, perché anche lui ha giocato sotto il Fenerbahce e la tifoseria non è che semplice, ma anche là c'è tanta pressione. Allora, con questa esperienza viene lui e al Napoli secondo me lui può migliorare, no? Chiaramente con il Fenerbahce sono differente di tecnico o classe, diciamo, però io prenderei subito lui, perché lui contro di noi ha dato sempre il massimo, si è visto qualcosa e ce l'ha. E non solo di adesso, un anno fa già parlavo di questi giocatori, per cui io so queste cose. Grazie. Grazie.